ragazzi rieccoci qui siamo ancora immersi nella seconda guerra mondiale abbiamo concluso l'altra lezione con il racconto del dell'anno della svolta il 1941 con i tre grossi e gravi errori compiuti dagli stati dell'asse che hanno praticamente messo il seme del cambio delle alleanze ma anche degli equilibri all'interno della guerra bene adesso seguiamo quella linea sempre procedendo cronologicamente e vediamo come all'anno della svolta seguono due anni particolarmente sofferenti per germania italia e giappone del giappone abbiamo già detto nell'altra lezione riassumendo in cinque minuti quello che fu la guerra del pacifico che vide i giapponesi arretrare nel 42 nel 43 e nel 44 ora ci concentriamo non sull'europa ma sull'africa vedete che questa guerra è veramente una guerra mondiale bene ci concentriamo sull'africa perché perché benito mussolini non ancora pago e contento della figuraccia fatta in grecia nel 1940 41 ecco che inventa una nuova guerra coloniale c'è l'idea di espandere il territorio coloniale italiano a scapito degli inglesi sia in somalia sia verso l'egitto ai confini con la libia mussolini tuttavia non fa non aveva fatto conto su una mossa tattica evidente che gli inglesi non fanno passare manco cinque minuti per mettere in atto ovvero il blocco del canale di suez gli inglesi a principio del 42 bloccano il transito delle navi nel canale di suez e di fatto isolano l'africa orientale italiana etiopia eritrea somalia italiana vengono sostanzialmente tagliate fuori dai rifornimenti e anche dalle comunicazioni quindi ben presto le truppe di stanza in in quella zona in quella regione cominciano a subire la pressione non solo degli inglesi ma anche degli etiopi perché il negus cioè l'imperatore d'etiopia che era rifugiato nel 1936 dopo la sconfitta con l'italia a londra viene fatto rientrare in etiopia e da lì organizza la resistenza degli etiopi contro gli invasori italiani e gli inglesi da sud cioè dalla somalia dalla somalia inglese premono contro le colonie italiane ben presto l'africa orientale italiana in meno di in meno di dieci mesi cessa di esistere il negus viene rimesso sul trono e le colonie italiane di eritrea e somalia vengono invase dall'inghilterra ma questo non è niente rispetto a quello che succedeva su in africa settentrionale dove mussolini pretendeva di arrivare in egitto rapidamente contando sul fattore sorpresa contando anche su alcuni reparti tedeschi velocizzati ma viene bloccato proprio ai confini fra la libia e l'egitto e ancora una volta hitler viene costretto a portare aiuto al suo alleato quindi a distrarre ancora altre truppe per venire in soccorso di perito mussolini e degli italiani questa volta ben consapevole della importanza strategica dell'africa del nord hitler manda su questo teatro di guerra il suo migliore generale edwin rommel detto la volpe del deserto che infatti inizia a conquistare i primi successi contro gli inglesi anche se le posizioni dell'esercito inglese e dell'esercito italo tedesco rimangono assestate per tutto il 1942 fino a quando nell'ottobre del 42 c'è una grossa battaglia campale che si consuma nel deserto ai confini fra la libia l'egitto ad el alamein dove l'asse in italia e la germania hanno una sconfitta clamorosa gli inglesi riescono ad arrivare addirittura in in libia occupando la cirenaica lasciando quindi solo la sola tripolitana la tripolitana cioè tripoli e la sua regione in mano agli italiani anche se in rotta quindi anche la campagna di africa si conclude con una sonora sconfitta per Italia e Germania e l'inghilterra continua a mantenere la sua posizione di solido baluardo contro le potenze dell'asse ma non basta perché per tutto il 1942 Hitler tenta anche di sfondare nel fronte orientale in Russia ma non riesce comunque ad avanzare più di quello che aveva fatto nell'anno precedente quindi in questa continua guerra di posizione fra l'esercito sovietico quello tedesco italiano e soprattutto il generale inverno che lavora a favore naturalmente dei sovietici cominciarono a decimare per il freddo per la fame e per le condizioni disumane di vita il grandioso esercito posto a invasione della Russia fino a quando non si arrivi si arriva al febbraio del 1943 quando i tedeschi tentano di sfondare le posizioni russe a Stalingrado una città importante a sud della della Russia sopra appena appena nella regione settentrionale del Mar Nero ma noi chiamano una sconfitta clamorosa una grossa sconfitta una sanguinosissima sconfitta dove muoiono oltre 300.000 soldati da una parte all'altra una battaglia terribile in cui i russi riescono a rintuzzare gli attacchi tedeschi e italiani e quindi si dà l'avvio a quella che è la grande ritirata dell'esercito tedesco italiano dalla dalla Russia negli italiani che erano arrivati in quasi 100.000 in Russia tornarono appena appena un migliaio quindi pensate quale devastazione fu a livello anche morale materiale umano e i contraccolpi che si ebbero in Italia con il fatto che il fatto che Mussolini ricordate aveva promesso una guerra rapida veloce indolore e invece si stava trascinando la guerra ormai per l'Italia da tre anni e sempre con maggiori lutti quindi questo cominciava anche a incrinare la fiducia del popolo italiano nei confronti di Mussolini il Giappone nel 43 perde anche la battaglia delle isole Salomone e quindi vede praticamente andare in fumo il suo impero sognato nel Pacifico nel Pacifico insomma il 42 43 iniziano ad essere due anni in cui l'asse non ha fatto altro che arretrare ma c'era ancora di più doveva arrivare ancora di più perché gli americani finalmente controllavano l'oceano Pacifico per la gran parte quindi hanno potuto cominciare a progettare un'altra grande operazione un'operazione che avebbe come naturale premessa la riconquista dell'Africa del Nord da parte degli inglesi con la scomparsa praticamente degli italiani e degli tedeschi in Africa del Nord iniziarono l'accumulazione delle truppe anglo-americane lungo le coste dell'Africa questo perché l'idea degli Stati Uniti e della Gran Bretagna era quella di colpire il paese più debole dell'asse ovvero l'Italia è anche il più facile da conquistare quindi nel luglio del 1943 grandi truppe si ammassano nell'Africa settentrionale per poter portare a termine lo sbarco in Sicilia uno sbarco in massa delle forze americane che fu preceduto attenzione da un sostanziale accordo segreto fra lo Stato americano e gli esponenti più importanti della mafia siciliana che era emigrata a New York e nelle città più importanti degli Stati Uniti questo perché voglio ricordare che Mussolini aveva combattuto tenacemente la mafia molti dei grandi capi mafiosi negli anni 30 furono costretti a emigrare negli Stati Uniti proprio per evitare il pugno di ferro del prefetto Mori il terribile prefetto mandato da Mussolini a scacciare, a dissolvere la mafia che era uno Stato nello Stato e quindi il fascismo, la dittatura non la poteva permettere ebbene gli Stati Uniti fecero un accordo segreto con i capi della mafia italo-americana rimandando in Sicilia gran parte dei mafiosi per poter preparare il terreno allo sbarco anglo-americano sbarco che si concretizza il 10 luglio del 1943 gli americani dilagano in Sicilia in maniera sorprendentemente rapida, veloce l'esercito perché si scioglie, si squaglia di fronte all'arrivo degli americani la popolazione saluta gli americani come liberatori inizia una fase difficilissima il re finalmente si rende conto del fatto che Mussolini non aveva più la situazione in mano comincia a temere anche per la compromissione della propria corona con il fascismo quindi inizia a tramare contro Mussolini una trama che si dipana per circa 20 giorni con incontri segreti del re con i vari esponenti del Gran Consiglio del Fascismo fin quando non si arriva alla seduta del 24 luglio 1943 una seduta del Gran Consiglio del Fascismo in cui Mussolini doveva trattare questioni ordinarie spunta un ordine del giorno cioè un documento che doveva semplicemente impegnare il Gran Consiglio del Fascismo che faceva le vici del Parlamento ormai ad una risoluzione sembrava un documento del tutto privo di interesse in cui si segnalava la necessità di portare il comando dell'esercito da Mussolini al re formalmente il re ce l'aveva ancora il comando però effettivamente lo registrava Mussolini eppure l'ordine del giorno puntualizzava questa cosa cioè che il comando effettivo delle truppe doveva essere svolto dal re e non più da Mussolini un ordine del giorno quindi che sembrava stupido in realtà andava a colpire quello che era un potere fondamentale di Mussolini ebbene Mussolini fa discutere questo ordine del giorno sicuro comunque che sarebbe stato respinto nella notte quindi quando già era superata la mezzanotte se va il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo vota a maggioranza l'ordine del giorno presentato da Dino Grandi 18 voti a favore a questo punto Mussolini perde l'appoggio del suo stesso partito il giorno dopo la mattina successiva viene convocato dal re a Villa Giusti quindi neppure il Quirinale ma nella residenza privata del re Mussolini va sicuro di poter riconfermare la sua posizione di fronte al sovrano il re invece lo costringe a dare le dimissioni costringe Mussolini a dare le dimissioni prospettandogli il fatto che comunque il nuovo capo di governo sarebbe stato il maresciallo Badoglio che era un mussoliniano sostanzialmente sì un militano ma comunque che aveva fatto carriera con Benito Mussolini ma quando Mussolini viene fatto accompagnare nel reto di Villa Giusti trova ad attendere una comunità dei carabinieri viene arrestato per ordine diretto del re e portato in una prigione speciale in un albergo sul Gran Sasso in Abruzzo qui da noi a capo imperatore a questo punto Badoglio diventa capo del governo gli italiani sembrano subodorare l'odore della fine della guerra ma Badoglio nel nuovo radiomessaggio ricorda chiaramente che la guerra continua a fianco dell'alleato germanico in realtà sotto banco il governo e il re in prima persona aveva già cominciato a fare delle trattative segrete con gli angloamericani per firmare un armistizio quindi terminare la guerra almeno secondo i desideri del governo legittimo poi vedremo che non è così tra l'altro la Germania che ben aveva capito quali erano le mosse che si agitavano attorno a Mussolini e al re aveva già iniziato a far arrivare truppe nelle principali città del nord e del centro dell'Italia onde poter controllare qualsiasi sviluppo che sarebbe determinato nella politica italiana e fece bene perché Tintra era in questo caso un grande stratega vedremo come il 2 settembre si firma l'armistizio a Cassibile gli italiani ottengono che l'annuncio venga dato più tardi l'8 settembre probabilmente per prepararsi per preparare la popolazione per preparare l'esercito peccato che questa preparazione non ci fu vedremo come l'8 settembre fu praticamente l'abdicazione dello Stato italiano non ci fu l'abdicazione dillo Stato italiano